Tragedia sfiorata in una struttura ricettiva di Pieve e Maiano nel comune di Civitelle in Val di Chiana. Un bambino di 5 anni è stato trovato privo di senzi in piscina. Il piccolo, che si trovava in vacanza con la famiglia, è stato rianimato e trasportato in codice 3 all'ospedale Meyer di Firenze, dove non sarebbe in pericolo di vita. Un terribile incidente sul quale spetterà i carabinieri fare piena luce. Nelle ultime ore è stata proprio la misericordia di Arezzo a stilare un decalogo di buone pratiche per prevenire e gestire il rischio di incidenti in acqua, che solo in Italia superano quota mille all'anno, di cui almeno 400 mortali, con una prevalenza di giovani tra le vittime. Dunque, per prima cosa, è fondamentale valutare le proprie altrui capacità natatorie, anche in rapporto alle condizioni ambientali. Mai poi trovarsi da soli in acqua e non distogliere lo sguardo dal diretto controllo visivo sui minori specie, sui bambini. Prestare anche estrema attenzione allo sbalzo termico tra fuori e dentro l'acqua ed evitare di entrare in acqua se non ci si sente in perfette condizioni di salute. Sempre la misericordia consiglia poi di attendere almeno 4 ore dopo i pasti principali e due dagli spuntini ed ancora non forzare mai le proprie prestazioni. Inoltre, il consiglio è quello di non arrampicarsi sulle scogliere ed evitare di tuffarsi da mezzi in navigazione, sia fermi che in movimento. Infine, nuotare sempre nelle apposite aree dedicate ai bagnanti ed evitare la prea se non sottodiretta sorveglianza visiva, evitando anche l'iperventilazione forzata. La misericordia ricorda anche che in caso di necessità è meglio evitare di entrare in acqua. Il rischio nel soccorso è infatti statisticamente più alto per il soccorritore che per chi è in pericolo, ma piuttosto chiedere aiuto inoltrando una chiamata di soccorso al numero unico europeo per le emergenze 112.